Presidente Becci, 29esima edizione di Mediterranea, ormai un appuntamento imperdibile per l'estate pescarese. Sì, anche quest'anno va molto bene, abbiamo avuto un aumento degli espositori, avremo tra parentesi una tappa importantissima, il ventennale di Giroglio, che vede presenti i nostri 13 comuni abruzzesi, che avranno modo di confrontarsi, di vendere oltre alla qualità del nostro olio, anche il nostro territorio, di valorizzare le nostre strutture. Avremo insieme a funzionari del Ministero delle Politiche Agricole, ci sarà il famoso giornalista molto di settore, Carlo Gambi, che attiverà tutta una serie di convegni, per cui ci saranno aree a tema, ma quelle tradizionali, i nostri prodotti ormai che conoscono tutti, gli arrosticini, la porchetta, i nostri formaggi, i nostri vini, ci sarà un'area dedicata alla birra artigianale in collaborazione col Comune di Spoltore. La birra artigianale è un prodotto che negli ultimi anni sta crescendo molto bene, per cui ci auguriamo soprattutto che la gente quest'anno sia numerosa, come l'anno scorso, per ricordare che l'anno scorso abbiamo avuto circa 65.000 presenze, ci sarà Marevivo che metterà a disposizione tutta una serie di figure importantissime, come Nicola Fossaceca, che è uno chef stellato, avremo una sera i ragazzi dell'Istituto Becchiero e l'ultima sera ci sarà la star, mi permetto di dire, Nicolomito, che ormai non ha più bisogno di presentazioni, che appunto valorizzerà con la sua cucina il cosiddetto, come ha sottolineato Paolo Barbuccia, non pesce povero, ma pesce dimenticato.